Bentornati. Vediamo insieme oggi come si realizza una scritta metallizzata come questa. Carina, eh? Adesso vediamo se siamo in grado di rifarla da capo. Come potete vedere qui abbiamo una serie di effetti applicati su un livello di testo e il nostro effetto globale ci darà l'effetto metallizzato. Ora noi andiamo ad aprire un nuovo livello di testo su cui andremo a cercare di ripetere gli stessi parametri. La prima cosa che possiamo fare è applicare un sovrapposizione sfumatura. Come potete vedere abbiamo qui un colore che io ho chiamato metallo e che trovate come elemento scaricabile nella descrizione di questo video. La scala la potete decidere arbitrariamente in base alle dimensioni dell'immagine su cui state andando a lavorare. Io adesso la lascio così, opacità 100%, dithering attivato. Come voi sapete il dithering serve a evitare che si vedano gli scalini su una sfumatura, quindi serve a renderla più morbida, più fluida. Consiglio di lasciarlo sempre attivo. La seconda cosa che possiamo fare è andare ad applicare un'ombra esterna. Vedete che fa già una bella differenza perché gli dà un aspetto un pochettino più tattile rispetto al piattume che avevamo un attimo prima. Ora nel momento in cui abbiamo selezionato il casellino della nostra ombra possiamo andare a prenderla, trascinarla e riposizionarla dove più ci piace. Possiamo inoltre decidere l'opacità, possiamo decidere quanto deve essere pesante quest'ombra, quanto deve essere netta oppure quanto deve essere morbida. In questo caso credo che ci fermeremo più o meno qui. Quello che andiamo a fare adesso è inserire una piccolissima ombra interna, visto che la nostra ombra casca di qui, selezioniamo l'ombra interna e andiamo a posizionarla in maniera coerente. Ovviamente non andremo a metterla dall'altra parte. Giusto un pochino. Beh adesso andiamo a scoprire dov'è che succede veramente la magia. Smusso ed effetto rilievo. Vedete che già ci siamo avvicinati al nostro risultato finale. Ora per quanto mi riguarda il segreto, per quanto riguarda smusso e rilievo, segreto che ho imparato pochi minuti fa, è nel contorno superficie. Quando aprite Photoshop normalmente trovate impostato questo parametro. Ogni tanto mi è capitato di usare quest'altro parametro. Quello che ho scoperto da poco è che la vera magia per fare questo tipo di scritta metallizzata, di superficie metallizzate in rilievo, è selezionare uno di questi due parametri. Vedete che è tutta un'altra cosa. Sono molto carini così, sono molto più fluidi, sembrano proprio veri, sembra che la luce ci vada a picchiare contro. Scegliamolo uno dei due anche in base alle dimensioni del testo che avete selezionato voi, che potrebbe non essere lo stesso font che sto usando io. Identicasi per la profondità e la dimensione. Questo dipende molto dalla dimensione del testo o dell'oggetto a cui lo state applicando. Adesso io li ho impostati in questa maniera, così a gusto vedendo il testo su cui sto lavorando. Il vostro potrebbe essere più sottile oppure più spesso. A questo punto andiamo ad applicare una finitura lucida e qui succede una cosa strana perché abbiamo messo una finitura lucida ma la mettiamo nera con metodo di fusione moltiplica e qui possiamo regolarcela e vedete che va un pochino a coprire la nostra sovrapposizione sfumatura che abbiamo messo inizialmente, però qui possiamo decidere che tipo di colorazione metallica gli vogliamo dare. Anche qui non teniamo piatto ma diamogli un po' di movimento. Bene, non è uguale però ci siamo avvicinati abbastanza. Si può sempre andare a fare fine tuning, ad esempio io adesso credo che potrei andare ad agire sulla dimensione per renderla un po' più realistica. In questo modo direi che ci siamo avvicinati abbastanza. Qui forse c'era più opacità sulla finitura lucida. Una cosa del genere, si ci siamo avvicinati abbastanza. Sovrapposizione sfumatura, forse possiamo agire sulla scala. Ah e un'altra cosa, già che ci siamo, dentro smusso ed effetto rilievo andiamo anche ad applicare contorno anti alias, questo sempre, che risolve un sacco di problemini che sennò si vengono a creare per quanto riguarda le curve di questi tracciati che non sempre sono precisissime. Così dovrebbe essere sempre a posto. Non è uguale uguale, però ci siamo avvicinati abbastanza e abbiamo visto come si realizza questo tipo di sfumatura. Ovviamente una volta che l'abbiamo fatta, noi possiamo prendere gli effetti, se teniamo premuto alta sulla nostra tastiera, li trasciniamo e li copiamo e li possiamo copiare su qualunque altro oggetto abbiamo dentro nel nostro progetto. Ovviamente qui c'è un po' di aliasing, bisognerà andare a rivederle un pochino. possiamo andare a rivedere un pochettino i parametri, però il concetto è che una volta che l'abbiamo fatto, lui è lì e possiamo copiarcelo su un altro progetto. Ed ecco qua il nostro oggettone. Spero che questo video vi sia stato utile e ci sentiamo presto.